Allora oggi è il 13 ottobre, abbiamo fermato il furgone a un'area di sosta campera qui a Musèdu e questa è la spiaggia, cioè la spiaggia, la spiaggia è là, questo è il pontile con la sfogliera sotto proprio che arriva proprio in mezzo al mare diciamo e come vista non c'è male, per niente questa regola dovrebbe essere tutta spiaggia libera, credo, perché a vederla non c'è un bagno privato, non c'è niente quindi dovrebbe essere tutta spiaggia libera, mi immagino che Cassino ci dovrebbe essere qui d'agosto ora il tempo diciamo si è un po' rimesso, fino a poco fa, fino a un'oretta fa diluviava, proprio diluviava tuoni, fulmini, vento e ora invece si è un po' rimesso a sud, da un po' ancora un po' nuvoloso però insomma si sta rimettendo, ora noi fino a domani mattina siamo fermi in questa aree di sosta bella, verde, ora li faccio anche un video appena dentro tanto è a dirà della spiaggia, proprio davanti al mare praticamente se non ci fosse la strada sarebbe proprio, esci dall'area di sosta sarebbe cioè la gente sarebbe già a prendere il sole sul mare e comunque nulla, il posto è bello, il posto è davvero bello peccato è piovuto fino a poco fa, si vede ancora bagnato, tutto umido e noi domani mattina presto ripartiamo, andiamo ancora più a sud e penso che arriveremo fino a Villa Simius per poi fare la parte ovest della Sardegna per il momento è tutto, ciao